L'agricoltura siciliana è il cuore pulsante dell'isola. Sono diversi i settori che contribuiscono all'economia isolana e che con molta difficoltà stanno affrontando le sfide attuali. Tutti questi settori oggi soffrono perché abbiamo affrontato le ultime due annate particolarmente cruente. Il 2023 con una piovosità oltre la media con danni da peronospora per esempio sui vigneti e invece il 2024 con una siccità che ha falciato letteralmente tutte le produzioni dalla produzione dell'uva alla produzione delle olive, dei foraggi per gli animali ma il problema principale è stato proprio la mancanza di acqua da dare agli animali. Diciamo che abbiamo affrontato un 2024 veramente veramente drammatico. Come è noto il clima sta cambiando e di conseguenza cambiano anche le stagioni e le produzioni agricole. Di cambiamento climatico se ne parlo ormai ogni giorno e non sono pochi i problemi che ha causato all'agricoltura siciliana. Il cambiamento climatico lo vediamo ogni giorno. Da un lato non abbiamo pioggia ma la pioggia che cade cade sotto forma di bombe d'acqua. Arrivano delle bombe d'acqua ma quest'acqua non fa altro che continuare ad intasare le dighe di fango e andarsene a mare per cui diciamo non dà nessun beneficio per quel che riguarda le sorgenti idriche e crea dei danni perché poi di fatto prende tutto lo strato vegetale dei terreni se lo porta a mare. Tra i problemi più gravi che il settore agricolo sta affrontando c'è quello della carenza d'acqua, un problema cronico per l'agricoltura siciliana. L'attuale condizione delle dighe in Sicilia poi non aiuta nonostante si tratti di infrastrutture idriche fondamentali per gli agricoltori. Abbiamo un problema noi delle dighe per quel che riguarda i collaudi. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere interventi urgenti. Da un lato serve un piano straordinario per per esempio dotare le aziende agricole di taghetti collinari di proprietà in modo da non dipendere dall'acqua pubblica ma dall'altro lato servono nuove dighe ma serve pure portare alla massima capacità quelle attuali. Tra i settori più colpiti da siccità e cambiamento climatico in Sicilia c'è quello del vitivinicolo che da sempre rappresenta un'eccellenza per la Sicilia. Il settore ha dovuto affrontare tante difficoltà in questa stagione che a livello di produzione è stata molto scarsa. L'autunno 2023 è stato un autunno particolarmente caldo e siccidoso per cui le viti sono andate al riposo vegetativo in una condizione di forte stress idrico e con temperature sopra la media. Questo ha fatto sì che nella selezione gemmale hanno selezionato più gemme a legno piuttosto che quelle a frutto. Di conseguenza abbiamo avuto alla ripresa vegetativa oltre il 50% di grappoli in meno rispetto ad un'annata normale. Siamo intorno al 50% di produzione. Col diretti da sempre è al fianco degli agricoltori e negli ultimi mesi si è fatta portavoce di alcune proteste contro la mancanza di politiche di sostegno adeguate. Servono da un lato fondi ma dall'altro lato la tempestività. Gli interventi fra due o tre anni non serviranno più perché le aziende o avranno risolto il problema da loro o saranno fallite. Noi abbiamo un problema oggi che si protrae dall'anno scorso perché abbiamo avuto due annate drammatiche in agricoltura uno dietro l'altro per cui gli interventi servono oggi. Quello che abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere non sono solo i fondi ma è la tempestività degli interventi. Nonostante le difficoltà resta la voglia di produrre e di portare avanti l'economia della Sicilia. Proprio per questo col diretti crede fortemente nel chilometro zero così da valorizzare i prodotti locali. Sono diverse infatti le iniziative messe in campo dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti per promuovere le eccellenze siciliane e supportare i produttori in un momento così difficile. Il chilometro zero è dare la possibilità alle piccole imprese che non possono esportare perché non tutti hanno la capacità finanziaria, la capacità organizzativa ma anche in termini di quantità di prodotto di potersi rivolgere a mercati più remunerativi. Le grosse aziende il discorso è diverso perché hanno la capacità di rivolgersi a mercati esteri o a fare economie di scala. I mercati oggi stanno diventando difficili, molto complicati, i grossi gruppi la fanno sempre più da padrona e noi cerchiamo di avere sempre strumenti per poter contrastare l'egemonia della finanza sull'agricoltura. Ma qual è il futuro dell'agricoltura siciliana? È un futuro incerto o c'è ancora spazio per la speranza? Il presidente di Coltivetti ci dà la sua visione e ci spiega quali sono le prospettive per i prossimi anni. L'unica cosa che oggi noi chiediamo è quella di riporre, rimettere l'agricoltura al centro dell'agenda politica, non solo come attività produttiva ma proprio come attività strategica di politica internazionale. L'agricoltura ormai è diventata una questione di geopolitica internazionale, ovvero si fanno le politiche dei dazzi in base a quando un paese è più deficitario rispetto ad una produzione. Per cui ripartiamo da un'agricoltura come settore strategico e penso che potremmo ridare futuro a tante aziende agricole ma soprattutto a tanti giovani che oggi faticano ad avvicinarsi al mondo agricolo.